Nicola Giannoccaro, atleta di handbike della compagnia Cavallaro di Bicelle, ha avuto un piccolo incidente mentre si allenava. In questa strada si stava allenando. Qui c'era un cumulo di rifiuti che adesso hanno tolto. Per poter evitare il cumulo di rifiuti sono andato con una ruota qui nel terreno dove c'era una pietra. Prendendo la pietra la bici si è ribaltata, subendo un danno sia fisico al malleolo destro vicino alla caviglia che alla bici. Chiaramente adesso la bici è ferma, guasta e ho dovuto sospendere gli allenamenti. Che cosa è successo alla bici? La ruota si è ovalizzata, una ruota in carbonio che costa un occhio della testa. Siamo sui 1100 euro più o meno e in più il danno che ho avuto fisico, che comunque sto curando e sto spendendo soldi per acquistare medicazioni. Ha preso una botta qui e qui e si è ovalizzata e poi il cambio della bici ha subito un danno e bisogna sostituirlo completamente. Non sto chiedendo un risarcimento per la bici perché la bici provvederò io a sistemarla, ma quantomeno per la ruota in carbonio che è quella che costa di più. Purtroppo la strada è comunale, è una strada di campagna, io posso allenarmi solo lì, non posso andare su strade statali in quanto è pericolosissimo. Di conseguenza sono costretto ad allenarmi lì, non è colpa mia se le strade sono disconnesse, di conseguenza chiedo che il Comune intervenga.